Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video sicuramente informativo sul nuovo reddito di cittadinanza che non si chiamerà più così ma garanzia per l'inclusione o da oggi in poi lo abbrevieremo, lo chiameremo GIL. Per chi non piace GIL, garanzia per l'inclusione va più che bene. Ebbene, tutto questo riguarderà circa 700.000 nuclei familiari per una spesa di poco superiore a 5 miliardi. Questo strumento che è stato messo al posto del reddito di cittadinanza sarà affiancato da altri due interventi per le politiche attive al lavoro, ovvero la prestazione di accompagnamento al lavoro e la garanzia per l'attivazione lavorativa riconosciuto a diverse categorie di cittadini. Insieme adesso in questo video cercheremo di capire meglio tutte le novità che ci sono, poi quando si potrà fare domanda, gli sgravi, le eventuali sanzioni e poi le altre misure. È quanto contenuto in una bozza del decreto di riforma del reddito di cittadinanza che conterrà anche altre misure sul lavoro e sul quale sta lavorando il governo. La bozza prevede anche un inasprimento della sanzione per dichiarazioni false e truffe con pene fino a sei anni di carcere. Nel testo anche le altre novità sul lavoro, dagli sgravi fiscali per le assunzioni stagionali ad un alleggerimento delle rigidità previste per le causali nei contratti a termine. Dal 1 gennaio 2024 arriva la garanzia per l'inclusione, GIL, che sostituirà il RDC e verrà riconosciuta ai nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un disabile, un minore, un soggetto con almeno 60 anni di età o una persona a cui è stata riconosciuto l'assegno per l'invalidità civile. Il beneficio tocca i 6.000 euro l'anno, vale a dire 500 euro al mese, aggiornato alla scala di equivalenza. Il sussidio è integrato fino a 3.360 euro, 280 euro al mese, come contributo affitto. Il sostegno è erogato per 18 mesi. Dopo un mese di stop riparte per altri 12. Per i beneficiari dell'RDC che al momento della scadenza dei sette mesi di sussidio previsti per quest'anno hanno sottoscritto un patto per il lavoro e sono inseriti in misure di politica attiva, arriva la prestazione di accompagnamento al lavoro. Si può chiedere dal 1 settembre e vale 350 euro al mese. Si stima che l'intervento interessi 213.000 persone di 154.000 nuclei familiari per una spesa 276 milioni di euro. Stesso valore per la garanzia per l'attivazione lavorativa riconosciuta a soggetti tra i 18 e 59 anni in condizione di povertà assoluta, con un valore ISE non superiore a 6.000 euro, che fanno parte di nuclei che non hanno i requisiti per accedere a GIL. Per favorire l'occupazione la bozza prevede degli sgravi. Se scatta un contratto a tempo indeterminato è riconosciuto uno sgravio contributivo al 100% per due anni, fino a un massimo di 8.000 euro l'anno. Se il contratto è a termine o stagionale lo scontò contributivo è del 50%, per un massimo di 4.000 euro l'anno. La relazione tecnica ipotizza 20.000 assunzioni a tempo indeterminato l'anno e 50.000 a termine o stagionali. Un'agevolazione è prevista anche se si apre un'attività di lavoro autonomo entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio. La lotta ai furbetti del reddito diventa più aspra. Arrivano delle sanzioni penali, da 1 a 3 anni per chi non ha comunicato all'IMPS le variazioni del proprio reddito e patrimonio, anche se derivano da lavoro in nero. Nel caso di presentazione di documenti contraffatti o informazioni non veritiere per ottenere la nuova garanzia per l'inclusione e gli anni di reclusione previsti sono da 2 a 6. Nel decreto trovano spazio anche altre misure. Sarebbero previste la proroga al 2025 per i contratti di espansione, una semplificazione delle comunicazioni per i datori di lavoro sportivi, la maggiorazione dell'assegno unico universale nel caso di un solo genitore poiché l'altro risulta deceduto, l'arrivo già quest'anno di tre scadenze, al posto di due, per la richiesta di pensionamento dell'ape sociale dei cosiddetti lavoratori precoci, l'adozione di misure per la sicurezza sul lavoro con l'estensione delle tutele in ail anche a studenti che svolgono attività formative, a docenti e ai lavoratori domestici, l'aumento degli sgravi contributivi e previdenziali per i datori di lavoro domestici alle prese con gli aumenti per colfe badanti. Di rilievo anche la norma che punta a modificare la rigidità delle causali previste per i contratti a termine, consentendo la stipula, liberà fino a 12 mesi e un rinvio alla contrattazione collettiva per gli aumenti fino a 24 mesi. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. E se volete potete trovarmi anche sul format di intrattenimento, basta cercare Gratta e Vinci con Max e lì ci divertiamo un po' con i famosi Gratta e Vinci, tanto pago io, che me frega. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.